Buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati del sito investire.biz questo webinar è fatto in collaborazione con investing.com che potete vedere appunto sul mio sfondo ma partiamo subito dal sito appunto di investing proprio per farvi vedere quali sono le possibilità appunto che questo sito offre sul sito di investing infatti trovate tantissimi articoli legati proprio al mondo del trading online e degli investimenti e in particolare nella sezione webinar trovate appunto tutti i webinar che vengono fatti quotidianamente appunto da investing.com oggi è una giornata particolare perché inizia con quella che è la prima conferenza stampa da parte di Donald Trump che si insedia, in realtà l'insediamento avverrà a breve ma oggi Donald Trump ha avuto modo di parlare ai mercati o meglio comunque a tutti i giornalisti con riferimento a quelle che saranno le sue linee guida per quello che è il mandato di Presidente degli Stati Uniti questo però a noi interessa in maniera marginale perché quello che vogliamo fare adesso è andare a vedere e fare le previsioni appunto sui mercati finanziari grazie all'analisi tecnica e a degli studi che faremo insieme io voglio che questo webinar sia quanto più possibile interattivo nel senso che voi avete la possibilità di poter fare domande attraverso l'apposita sezione all'interno del software GoToMeeting e quindi vi esorto a domandare, fermarmi, chiedere proprio per magari andare ad analizzare quelli che sono i cross che ritenete più importanti oltre magari agli indici, alle commodities o quello che volete analizzare come prima cosa partirei, visto che ancora non sono pervenute domande da parte vostra io partirei con quello che è forse la valuta più significativa e come valuta più significativa, o meglio la coppia di valute più significative io partirei appunto da Euro-Dollaro questo è un grafico orario di Euro-Dollaro cerchiamo di capire un pochettino come andare a leggere un grafico e magari fare le nostre analisi da prima io spero che ci siano tanti interventi in modo tale che potremo avere una discussione profittevole insomma tutti quanti io la prima cosa che faccio generalmente è andare a selezionare un grafico di tipo giornaliero perché? Perché il grafico giornaliero tutto sommato mi dà quella che è la tendenza, quello che sta succedendo sul mercato e mi riesco a fare un'idea un po' più precisa di quelle che sono le opportunità che stanno venendo a crearsi ovviamente più si va a stringere il time frame quindi si considerano più si va a stringere il grafico e si considerano sempre maggiori il numero di dati più ci facciamo un'idea di quello che è avvenuto nel passato vedete in questo momento io ho stretto parecchio quella che è il grafico quindi abbiamo delle candele molto molto piccole ma abbiamo un periodo di tempo piuttosto importante che va dal 2015, ce l'abbiamo tutto quanto con tutto il 2016 ovviamente l'inizio del 2017 quello che mi piace farvi vedere in questa fase che cos'è? è il fatto che abbiamo avuto dapprima una fase ribassista un trend piuttosto spiccato e poi abbiamo avuto un trend tendenzialmente laterale durato per quasi due anni che poi ha avuto nella sua ultima parte delle rotture sui livelli inferiori dove appunto abbiamo aggiornato i minimi precedenti questo è esattamente molto importante perché poi andando a rimpicciolire il nostro lasso temporale abbiamo comunque degli input quindi l'input che abbiamo ricevuto fino a questo momento che cos'è? è il fatto che il mercato è sceso poi è stato in un trend tendenzialmente laterale per quasi due anni fino ad aggiornare quelli che sono stati i minimi precedenti che abbiamo visto appunto appena sopra ad area 1.05 in questo momento ci troviamo sotto i minimi precedenti quindi dal punto di vista dell'analisi tecnica classica che cosa si può dire? si può dire che il trend era ribassista poi è rimasto in una fase tendenzialmente laterale per poi rompere e andare a fare nuovi minimi adesso però dobbiamo capire che cosa dobbiamo fare in questo momento e quello che vediamo sostanzialmente è che il trend continua ad essere impostato al ribasso ma soprattutto in questo momento ci troviamo in prossimità appunto dei minimi cosa fare a questo punto? beh le domande sono diverse dipende che tipo di orizzonte temporale abbiamo e come vogliamo impostare il nostro trading perché? perché le opzioni a questo punto sono diverse sappiamo che quando si fa trading si può operare sia al rialzo che al ribasso ma se è vero che io mi aspetto un dollaro tendenzialmente forte e quindi questo cross lo vedo impostato al ribasso c'è da dire che in questo momento non andiamo a vendere su dei livelli particolarmente interessanti ma andiamo a vendere molto molto vicino ai minimi a circa un centinaio di pip dai minimi questo va bene se abbiamo un orizzonte diciamo di trading ed un livello di target piuttosto ampio e questo ci dà la possibilità di avere dei rapporti rischio rendimento particolarmente favorevoli in realtà a me non piace molto inseguire il trend e quindi se il movimento ribassista è già partito tendenzialmente in questo caso siamo in ritardo siamo in ritardo per prendere una posizione ribassista questo potrebbe non essere vero magari su un time frame inferiore quindi magari su un grafico un orario o su un grafico magari a 15 minuti però diciamo che a livello di idea io sono per un rafforzamento del dollaro americano e in questo preciso momento sostanzialmente non vedo ottime opportunità perché secondo me se mi voglio posizionare short su euro-dollaro devo aspettare che torni almeno in area 1.06 per potermi posizionare short da livelli più ampi in questo modo potrò mettere uno stop più stretto e un target più ampio a quel punto avrò rapporti rischio rendimento molto più favorevoli che mi consentiranno di avere un trading tendenzialmente più favorevole ma andiamo a vedere invece sul grafico orario che cosa sta succedendo sul grafico orario quello che vediamo è una forte volatilità la forte volatilità come abbiamo accennato prima è legata a quello che ha detto Donald Trump o meglio quello che sta dicendo Donald Trump durante appunto la sua conferenza stampa cosa vuol dire questo? vuol dire che durante le parole di Trump che sostanzialmente la conferenza stampa è iniziata intorno alle 5 abbiamo avuto una volatilità di oltre 100 pip e ancora adesso la volatilità continua ad essere molto alta ora il punto qual è? il punto è che in questo momento ci troviamo esattamente all'interno proprio di questo diciamo della fase di volatilità e quindi a mio avviso posizionarsi a rialzo o a ribasso su questo strumento è assolutamente un qualcosa di casuale nel senso che chi si posiziona a rialzo o a ribasso in questo momento almeno per come la vedo io fa di fatto un gioco d'azzardo perché? perché da questi livelli il mercato potrebbe tranquillamente rimbalzare fino ad area 1.0550 come potrebbe andare a fare nuovi minimi sotto il livello di 1.0450 di conseguenza in questa particolare situazione io ritengo che sia assolutamente non intelligente mettersi a mercato anche perché tra l'altro i volumi europei stanno calando visto che gran parte delle borse europee hanno chiuso e gran parte degli operatori hanno già concluso la loro giornata di trading bene ci sono domande con riferimento a questo particolare cambio a quello che abbiamo detto perché secondo me è molto importante che ci sia un'interazione con riferimento a quello che ci stiamo dicendo perché se no possiamo tranquillamente spostarci e andare a fare delle valutazioni su altri strumenti visto che l'obiettivo era proprio quello di andare a fare analisi e previsioni sulle valute e sugli indici c'è una prima domanda mi dice a lungo termine e short? ma sicuramente sì secondo me è corretto posizionarsi short sul lungo termine ma da livelli più alti cioè l'obiettivo secondo me sarebbe quello di far tornare su questi livelli insomma livelli di 1.0750 sarebbero bellissimi ma se non dovesse tornare fino ai livelli di 1.0750 allora magari fino appena sotto 1.07 quindi su queste candele che hanno fatto rimbalzare i prezzi più volte quindi da 1.0650 a 1.0670 secondo me sono ottimi livelli per posizionarsi nuovamente al ribasso prima no a mio avviso quindi questa è un po' la mia view per quanto riguarda quindi altri strumenti io visto che voglio che questo webinar sia assolutamente interattivo andrò a fare un'analisi sulla base di quello che voi mi chiederete quindi vorrei che mi chiedeste voi di andare ad analizzare un particolare strumento e insieme andremo a fare una previsione su questo strumento per vedere se ci sono delle opportunità quindi attendo le vostre richieste per passare a un altro cross un altro cambio o un altro strumento per la persona appunto che mi chiedeva prima se allora a questo punto dobbiamo metterci long fino a 1.0650 secondo me no perché mettersi long da questi livelli di fatto vuol dire posizionarsi contro trend e soprattutto contro tutto quello che ha senso perché se ci fate caso si allargeranno i differenziali dei tassi di cambio come voi ben sapete il cambio euro-dollaro comunque è fatto dall'euro contro il dollaro se andiamo long compriamo euro e vendiamo dollari se andiamo short compriamo dollari e vendiamo euro questo cosa vuol dire? vuol dire che alla fine se i tassi di interesse dovessero aumentare sul dollaro e probabilmente rimanere invariati sull'euro questo differenziale di rendimento tra l'euro e il dollaro andrà ad ampliarsi questo farà sì che tendenzialmente gli investitori andranno a preferire il dollaro rispetto all'euro e quindi cercheranno di comprare dollari in un mondo che cerca di comprare dollari tendenzialmente questo non può che portare a un apprezzamento del dollaro stesso e quindi io questo è il movimento che vedo però come vi ho detto prima secondo me in questo momento stiamo vendendo troppo in basso e quindi c'è il rischio di un rimbalzo che ci prenderemo tutto quanto addosso che onestamente non è il caso secondo me appunto di andare a prendere troppi rischi ricordiamoci sempre che non siamo obbligati a fare trading io dico sempre fate il vostro trade date un valore, date un voto a quello che state facendo nel senso che se noi riteniamo che un particolare strumento non abbia una configurazione grafica o macroeconomica particolarmente interessante allora a quel punto forse è meglio andare a cercarne un altro tanto oggi le piattaforme di trading offrono tantissimi strumenti sui quali negoziare quindi non è un grosso problema trovare un'altra opportunità nel frattempo l'amico Gianluca mi dice di andare a fare una previsione sul gold che è uno strumento assolutamente tradato e assolutamente tra l'altro correlato a quello che è il dollaro nel senso che il gold, meglio non correlato ma comunque come sappiamo bene il gold è uno strumento quotato in dollari americani questo visto che me l'avete chiesto è il sito investire.biz sul quale potete trovare i miei articoli vi ho usato ad andare nella sezione calendario eventi e corsi nella sezione servizi premium dove troverete tutti i nostri servizi quindi quello che investire.biz offre andiamo avanti con le previsioni appunto sul gold quindi andiamo a selezionare il grafico del gold e andiamo a farci un'idea un pochettino più precisa di quello che sta succedendo questo è un grafico tendenzialmente andiamo a prendere un grafico di insomma dove si vanno a prendere diversi anni questo è quello che sta succedendo sul gold da almeno un po' di tempo a questa parte e come vedete sembra che si sia impostato un trend decisamente ribassista in questo momento abbiamo avuto un ritracciamento quindi verso l'alto i prezzi dai livelli di 1130 hanno ricominciato a tornare in area 1180 questo vuol dire che è arrivato il momento di posizionarsi long? secondo me no perché questo movimento non ha fatto invertire quello che è il trend di lungo periodo tant'è vero che abbiamo un movimento importante che giuro già da diverso tempo ma che non ha superato nemmeno la metà del movimento più importante che abbiamo visto precedentemente quindi se noi abbiamo visto un movimento da 1300 più o meno fino a un movimento di 1180 1120 sto andando a spanne però più o meno stiamo parlando di un movimento di 180 dollari questo vuol dire che un rimbalzo da parte della valuta o meglio del gold di circa 90 dollari ci può stare tranquillamente che è la metà del movimento più importante che abbiamo visto precedentemente quello potrebbe darci un'opportunità per vendere nuovamente vediamo da 1120 a 1210 ci troveremo esattamente su questo livello che vi segno in verde se noi andiamo a prendere il grafico e andiamo a selezionare questo livello vedete che si trova proprio su un livello che il mercato ha sentito molto nei mesi precedenti guardate questi punti da dove il mercato poi è ripartito guardate questi altri punti da dove poi abbiamo avuto delle ombre piuttosto importanti quindi come si imposta un trade sull'oro in questo momento secondo me un trade sull'oro in questo momento si imposta in questo modo si attende di arrivare in quest'area che potrebbe essere 1210 considerate che la volatilità sull'oro è piuttosto ampia cioè i movimenti i prezzi poi ci tornano perché i prezzi hanno memoria del mercato e quindi potrebbe tranquillamente tornare qui da qui si apre secondo me uno scenario ribassista piuttosto importante io non penso onestamente che continuerà la correlazione che tutti quanti conoscono e sul quale ci hanno abituati nel senso che tutti dicono quando gli asset dell'equity tendono a scendere allora l'oro si apprezza non è stato così perché effettivamente se ci fate caso l'SP500 ha aggiornato continuamente i propri massimi mentre l'oro scendeva e l'oro scendeva molto di più rispetto a quella che è stata appunto la performance dell'SP500 per così dire quindi io cercherei di ragionare sul prezzo del dollaro quindi dell'euro dollaro sicuramente e su quello che vediamo dal punto di vista grafico dal punto di vista grafico io penso che ci siano questo tipo di valutazioni da fare la prima che un piccolo ingresso short in area 1210 lo possiamo fare tranquillamente la seconda che secondo me è ancora più importante è andare a individuare quei punti che sono statisticamente importanti io qui ho tracciato una trend line dove vado a prendere di fatto quelli che sono i miei precedenti posso andare a tracciare un'ulteriore trend line che parte da questo livello e passa esattamente per quest'altro livello perché vado a tracciare una trend line nel momento in cui i prezzi toccano un punto e poi fanno successivamente i nuovi minimi vedete che è un discorso spazio-temporale nel senso che abbiamo bisogno che i prezzi ritornino su questo trend line che sicuramente verrà incrociata prima o poi su livelli più alti o più bassi però vedete che indicativamente ci troviamo su questi livelli ecco da questi livelli potrebbe essere estremamente interessante aprire una posizione al rimasso a quel punto la domanda che potreste farmi è benissimo, tutto bello ma a questo punto io dove metto lo stop e dove metto il target se sono convinto di un trend ribassista devo andare a mettere uno stop o meglio parto dal target un target sotto i minimi precedenti quindi almeno in area 1110 e lo stop a un terzo quindi circa a 30 punti quindi a 1240 su questi livelli sopra questa area di compressione dei prezzi che abbiamo visto nel periodo di ottobre quindi questo è come secondo me si fa un trading intelligente ovviamente operando in questo modo abbiamo la possibilità di andare a target una volta su 4 perché avendo dei rapporti rischio rendimento così favorevoli tendenzialmente la possibilità appunto di andare a target o meglio avendo questo tipo di rapporti di rischio rendimento se anche andassimo in stop 3 volte su 4 non perderemmo ovviamente questo è un ragionamento semplicissimo semplicistico perché non tiene conto di tutta una serie di fattori che potrebbero essere per esempio il costo di finanziamento della posizione insomma però diciamo che indicativamente più o meno dovrebbe essere così detto questo la gestione può essere gestita anche in maniera intelligente per ridurre i rischi quindi mettendo degli stop in pareggio così come dei trailing stop è certo che vendendo su questi livelli probabilmente è meno difficile prendere un movimento rialzista molto molto forte contro nel breve periodo un'altra obiezione che mi state facendo è ma se allora i prezzi non ci arrivano su questo livello io che cosa faccio niente non faccio niente perché non sono obbligato a entrare per forza io devo dare un valore al trade che faccio io posso mettermi short già da questi livelli ma è un trade al quale do 6 come livello di ingresso e come rapporti rischio rendimento se voglio fare un trade da 8 devo entrare su un livello più interessante perché non ha senso vendere una cosa a 1185 dollari quando posso venderla a 1210 ok? questa è un po' la mia idea il mio modo insomma di fare trading poi questo è un momento nel quale abbiamo la possibilità anche di scambiarci idee opinioni quindi sicuramente se voi avete un'idea diversa rispetto a quello che sto dicendo vi esorto a dirmela insomma tra l'altro soprattutto per chi è neofita visto che non capisco a che livello siamo appunto in questo webinar vi do qualche indicazione innanzitutto vi do il sito dove investire.biz dove appunto noi scriviamo abitualmente ma vi do soprattutto il sito formazionetrading.com questo sito è molto importante perché trovate tutta una serie di risorse gratuite quindi super base di trading online il trading online per chi comincia per farvi un'idea altra cosa estremamente importante è il canale youtube di investire.biz dove trovate tutta una serie di video analisi che ogni giorno appunto vi danno delle indicazioni su quello che è la nostra operatività e quello che stiamo facendo se qualcuno di voi invece dovesse essere di Roma vi esorto ad andare appunto sul sito tradingdalvivo.com perché avrete la possibilità di poterci incontrare il giorno 27 di gennaio proprio a Roma nel frattempo attendo che arrivi da parte vostra una ulteriore richiesta per andare ad analizzare un particolare strumento dove magari ci sono delle opportunità in tempo reale io non ve le voglio dire quelle che sono secondo me le opportunità in tempo reale ma vorrei che ci fossero domande da parte vostra proprio per andare ad analizzare un particolare tipo di strumento voglio arrivare alla fine di questo webinar dove l'analisi la facciamo insieme quindi cos'è che vorreste analizzare cos'è che vorreste vedere nello specifico allora ci chiedete Audi USD nessuno che chiede della sterlina allora Audi USD cross decisamente interessante cos'è che sta succedendo su questo cross allora cross Audi USD in questo caso abbiamo delle opportunità di trading migliori vediamo chi me le dice dov'è che che tipo di trading possiamo fare su questo su questo su questo strumento vediamo chi di voi è posizionato long chi di voi vorrebbe posizionarsi short così andiamo pian pianino a fare delle valutazioni allora c'è chi dice entrare adesso short andiamo a vedere il big picture cioè quello che è il grande quadro questo è molto simile euro dollaro nel senso che come vedete siamo in prossimità dei minimi che abbiamo visto però come vedete questo è un grafico mensile io voglio andare a ridurre la nostra operatività e andiamo a vedere che cosa si può fare quello che a me piace tendenzialmente fare è andare a selezionare quelli che sono i punti di massimo andando a prendere i i trend e in questo caso ci rendiamo conto di una cosa molto importante che l'unica trend line veramente importante che abbiamo su questo grafico è questa che vediamo in questo momento e al momento sembrerebbe essere stata rotta ok quindi che cosa succede quella che era la trend line importante che doveva far bloccare i prezzi al di sotto di questa trend line per far continuare quello che era un trend ribassista di fatto è stata rotta ok quindi sembra che in questo momento questo che invece sul gold avete visto che non è successo questa stessa cosa quindi in questo momento il trend da ribassista almeno nel medio del breve termine sembrerebbe essere diventato rialzista ok ora ho detto 5 minuti fa che io voglio mettermi in favore di dollaro ok quindi io il dollaro tendenzialmente lo voglio comprare e quindi dovrei mettermi short ok ma mettermi short su questo cross secondo me è meno intelligente che mettermi invece al rialzo di dollaro quindi comprare dollari nei confronti di un'altra valuta quindi il concetto cos'è l'audi in questo momento è una valuta forte è una valuta forte e nonostante il dollaro sia anch'esso una valuta forte sono due valute forti che si scontrano ora visto che noi dobbiamo lavorare su dei cross quindi uno contro l'altro immaginatelo come una tiro alla fune se due valute tirano nella stessa direzione tendenzialmente si crea un movimento laterale e non è un cross particolarmente interessante da tradare quindi lo short che mi consiglia Alessandro su questi livelli di prezzo io non lo apprezzo particolarmente anche perché se noi andiamo a riprendere il euro dollaro in questo momento sta quotando 1.0518 quindi è in prossimità dei minimi quindi non non si è apprezzato nei confronti del dollaro australiano quindi non mi piace vado avanti a rispondere a qualche altra domanda Diego dice io sono neofita livello 0 quindi mi raccomando salvati quelli che sono i siti che ti ho mandato così che potrai farti tutta la la tua la tua formazione gratuita e mi chiede se secondo me avrebbe più senso guardare i supporti resistenza trendline un indicatore particolare o un'analisi esclusiva dei prezzi secondo me ci vorrebbe tutto io ci metterei anche un po' di analisi fondamentale quindi analisi fondamentale per capire il quadro dove ci troviamo più un'analisi dei prezzi partendo esattamente dal prezzo da questo che è il valore più importante che abbiamo sul grafico però inserire degli indicatori inserire degli oscillatori e delle trendline delle medie mobili o quello che volete voi di fatto se abbiamo capito bene come vengono calcolate può essere molto utile Alessandro dice quindi a questo punto sarebbe meglio fare un cross come dollaro cad lo andiamo a vedere dopo allora vi sto segnando voi avete chiesto GBP USD mi scrivo tutto perché se no poi li perdiamo GBP JPY e EUR JPY ok e USDCAD ok Michele dice se si guarda il grafico mensile ci troviamo in prossimità di un supporto dinamico andiamo a vedere subito però il grafico mensile magari è un filino troppo lungo insomma quindi io non non lo trado generalmente allora andiamo avanti quindi mi chiedete anche euro GBP allora io partirei dai cross che scambiano contro sterlina perché avete visto quello che tanto ci sarà la registrazione quindi poi dopo vi esorto ad andare sul nostro canale youtube dove troverete la registrazione guardate il ragionamento che abbiamo fatto prima su Audi USD sul fatto che avesse rotto il la trendline guardate invece come GBP USD si è comportato invece vedete che qui siamo veramente in prossimità o meglio in stiamo vedendo una valuta forte contro una valuta debole perché perché qui di di rotture se vogliamo andare a prendere la cosa più vicina al grafico è questa ma vedete che rimane sempre costantemente sotto il diciamo quello che è l'indicazione quindi quello che abbiamo in questo momento che cos'è abbiamo una sterlina decisamente debole quindi la sterlina è veramente una valuta debole in questo momento ci sono segnali di inversione in questo momento c'è un motivo per il quale noi adesso dove dovremmo comprare o vorremmo comprare pound no assolutamente no nel senso che se io compro qui sto comprando probabilmente su un doppio minimo potrebbe rimbalzare torna qua potrebbe andare tranquillamente qua tutto vero però sto operando contro trend perché se voi fate vedere se avete un bambino se avete una persona che aveva mai fatto trading vicino a voi e gli chiedete se questo grafico sta salendo sta scendendo vi dirà sicuramente che sta scendendo e non c'è dubbio su questo cioè sul fatto che stia scendendo non c'è dubbio quindi visto che il trend è al ribasso e dobbiamo operare in favore di trend in questo momento tradare sterlina dollaro al rialzo non ha nessun senso è corretto invece essere posizionati al ribasso allora la domanda è ma allora mi metto short adesso no perché ti stai mettendo short ai minimi dell'85 quindi a 40 anni a questa parte attendi un rimbalzo su questa trend line o su dei livelli che possiamo indicare anche come dei livelli statici quindi su questo livello che potrebbe essere un livello piuttosto importante considerate che è estremamente volatile quindi può tornare su questi livelli e quindi mi metto short con una size molto piccola qui e poi magari mi metto short nuovamente con una size un po' più importante qui questo trade ha un valore più basso gli diamo un voto 7 questo trade diamo un voto più alto magari questo trade però non lo faremo mai perché? perché comunque potrebbe non tornarci nel breve su quel su quel livello quindi short qua non mi piace perché siamo già sui minimi aspettiamo il ritracciamento e ci riposizioniamo nuovamente short quindi questa è un po' l'idea su euro gbp il discorso è un po' diverso nel senso che l'euro non è una valuta forte almeno in questo momento e di conseguenza euro gbp è molto meno diciamo ha una direzionalità molto meno forte rispetto a euro gbp tant'è vero che immaginiamo di vedere il grafico precedentemente che abbiamo visto 5 minuti fa abbiamo che il grafico è già arrivato su questi livelli nel senso che è già arrivato a testare i minimi precedenti quelli che avevamo visto prima questo in realtà su euro gbp non è successo perché l'euro è una valuta debole quello che si può fare a questo punto secondo me è io qui ritengo entrambe le valute deboli se proprio proprio si vuole comprare sterlina al posto che andare long gbp usd ok a questo punto vado short e qui ci sta tutto perché vedete c'è anche una conformazione grafica di quello potrebbe essere un test a queste spalle insomma uno short invece euro gbp è da preferire se voglio comprare pound la domanda a questo punto perché bisogna farsi tanti interrogativi è benissimo voglio comprare pound ma le implicazioni della brexit le implicazioni di quello che potrebbe avvenire questo è molto importante perché perché dovrebbe farci pensare una riduzione della size nel senso che se la sterlina sarà estremamente volatile a causa di quelle che potrebbero essere ripercussioni della brexit una size molto piccola probabilmente ci difende da quelli che sono i rischi di mercato quindi però secondo me un trade short su questo strumento se proprio lo vogliamo fare secondo me è un bel trade mi dice Arcadio se andiamo short non andiamo contro trend no Arcadio perché è vero che il trend è rialzista però è altrettanto vero che questo cross non ha aggiornato i massimi precedenti e quando finché non aggiorna i massimi precedenti non potrebbe esserci appunto l'inversione del trend tra l'altro c'è una figura di inversione molto molto potente che si chiama testa e spalle che potrebbe essere questa io su questo non penso che ci sia grande forza sulla sternina ma non penso che ci sarà grande forza sull'euro quindi secondo me questo è un trade che si può tranquillamente fare a mio avviso ovviamente bisognerebbe attendere il completamento della figura per attendere un movimento ribassista io non amo l'analisi tecnica intesa in questo modo perché secondo me si entra sempre in ritardo e quindi piuttosto aspetto il ritracciamento a quel punto su questi livelli il fatto è che se dovessimo operare da manuale non opereremmo mai bene ci sono delle domande su sull'SP500 che è l'indice diciamo più più importante a livello mondiale andiamo a prendere l'SP500 quindi questo è il grafico del SP500 questo grafico non si presta equivoci cosa sta succedendo siamo in un trend voglio prendere il più possibile qui stiamo partendo dal 2009 questo è un trend rialzista non c'è dubbio sono stati aggiornati via via i massimi e noi ad oggi siamo sui massimi assoluti adesso 5 punti più 5 punti meno perché oggi la candela è rossa però non c'è dubbio che ci troviamo sui massimi di sempre se io vado indietro ancora di più e prendo i dati dal 70 vedete che stiamo parlando appunto dei massimi di sempre ok questo per dire che cosa per dire che è assolutamente rischioso prendere posizioni rialzisti su questo strumento probabilmente uno storno ci sarà ma se andiamo a posizionarci a ribasso su questo cross su questo strumento tendenzialmente lo facciamo con un rischio più importante nel senso che il trend è decisamente rialzo detto questo io che sono uno studioso della stagionalità vi voglio dare una chicca guardate che cosa è successo nel mese di gennaio del 2016 dove più o meno stiamo parlando dello stesso periodo questo è gennaio 2017 ok andiamo a prendere il gennaio del 2016 è stato l'anno la candela più negativa sull'SP500 di tutto l'anno quindi ci fu uno storno molto molto forte io credo nella stagionalità dei mercati e potremmo avere una candela rossa esattamente uguale che non potrebbe voler dire un ritracciamento dell'indice nel lungo termine ma sicuramente gennaio è stato l'anno più negativo il mese più negativo per l'SP500 quindi questo che vediamo qua ora se vi piacciono gli studi quindi tradotto cosa vuol dire vuol dire che secondo me è uno short si può provare lo stop deve essere molto stretto e potrebbe dare soddisfazioni perché gennaio è stagionalmente uno dei o meglio è stato più volte un mese negativo insomma per l'SP500 quindi secondo me potrebbe essere un'opportunità insomma quella di posizionarsi al ribasso proprio per sfruttare questa cosa stop piccolo target piuttosto ampio potrebbe tranquillamente il mercato andare a toccare il livello di 2100 quindi è vero che operiamo contro trend ma non lo facciamo a caso e ci prendiamo uno stop eventualmente molto molto piccolo e stiamo vendendo una cosa sui massimi di sempre ora per chi è appassionato di studi sulla stagionalità c'è questo software che si chiama Forecaster che vi esorto a provare si può provare per 5 giorni con solo un euro questo software insomma vi fa vedere proprio come funziona la stagionalità tra l'altro avremo un webinar dedicato a questo proprio su investing.com ve lo faccio vedere abbiamo un webinar scoprire le potenzialità della stagionalità sui mercati finanziari quindi questo è importante perché così avremo questa opportunità e poi appunto abbiamo un altro webinar a fine febbraio bene io andrei avanti con quelle che sono le provisioni vediamo se ci sono delle altre domande domande sì ci sono delle domande con riferimento a dollaro cad dollaro cad sappiamo che è un cambio dove abbiamo una forte un forte impatto da parte del petrolio sappiamo che il dollaro cad e il petrolio sono inversamente correlati nel senso che quando il dollaro canadese si apprezza generalmente si apprezza anche il petrolio e viceversa quindi questo è quello che sta succedendo detto questo secondo me si può fare una valutazione importante ovvero si può dire secondo voi su questo strumento ha più senso posizionarsi al rialzo o ha più senso posizionarsi al ribasso beh secondo me in questo caso non è definito il trend nel senso che abbiamo un trend che io non definirei né rialzista né ribassista in questo momento io mi sento di prendere l'ultima parte del grafico e quindi di valutare come interessante quello potrebbe essere un posizionamento al rialzo su questo cross quindi io su questo cross propendo per un'impostazione rialzista ok quindi mi aspetto che il dollaro si apprezzi nei confronti del dollaro canadese ovviamente quando abbiamo visto questi picchi c'era il petrolio a 20 dollari tra 20 tc 30 tc intorno ai 30 dollari non mi aspetto che torni lì però ovviamente le correlazioni poi si prendono si mollano in ogni caso il petrolio è tornato su dei livelli interessanti sopra i 50 dollari quindi ritengo che allora andiamo sul grafico giornaliero sopra i 50 dollari e quindi secondo me in questo caso ci sono delle ottime opportunità per riposizionarsi al rialzo quindi cross che scende secondo me qui ci sono delle ottime opportunità come si imposta un trade di questo tipo secondo me l'idea è questa andiamo a vederlo bene io mi posizionerei al rialzo non vi sono dubbi su questo la trend line più interessante che abbiamo è questa perché passa per questi punti ok questa non è più valida poi dopo noi abbiamo tutto un corso sulle trend line che trovate su formazione trading però questa trend line che ho disegnato non è più valida quella più corretta da tracciare è quella che parte da qua e passa per questo punto e vedete che in questo momento siamo veramente su un livello importante da qua un long ci sta tutto l'obiettivo il nostro target di rendimento quindi si parte si va long dai livelli attuali 1.031.92 ovviamente vi ricordo che tutte queste sono informazioni di carattere personale quindi chi dovesse decidere di intraprendere un'attività di trading dovesse fare trading sulla base di queste informazioni lo fa a proprio rischio e pericolo quindi né noi né io come investire.biz ne ricordati né come si dice investing.com potremmo essere ritenuti responsabili di questo quindi queste sono diciamo opinioni personali quindi però secondo me un long su questi livelli si può fare tranquillamente anche perché si va a comprare dollaro in una fase piuttosto interessante e quindi long ci sta tutto target sopra i massimi quindi abbiamo la possibilità di fare quasi 4 figure circa 350 pip non facciamo finta 300 possiamo mettere uno stop a 100 pip quindi su questi livelli sotto i minimi precedenti questo è un bellissimo trade long a 1.32 circa target 1.35 e rotti stop 1.31 appena sotto 1.31 questo è veramente un bellissimo trade mi piace tantissimo quindi questo è un trade al quale io do un voto di almeno 8 come stavamo dicendo prima diamo un bel voto all'operazione questo mi mi piace molto bene visto che abbiamo una richiesta da parte di una donna non posso che dare preferenza a lei e quindi andiamo a fare un'analisi su quello che ci è stato richiesto appunto sul indice italiano quindi indice italiano che cosa vediamo su indice italiano l'indice italiano è particolare perché è l'unico che si è mosso in maniera completamente diversa dagli altri perché ha avuto un'esplosione a rialzo io quando vedo questo tipo di movimenti che sono dei movimenti io vi dico che sono spesso dei movimenti che non non sono sostenuti da nulla nel senso che quando tu hai una situazione che il mercato che passa dalle ore 16.500 alle ore 19.500 quasi 20.000 in un tempo così rapido questi sono strumenti estremamente pericolosi ora mettermi long no mi spiace ma io non credo nell'Italia in particolare non credo in questo mercato e non credo nella forza dello stesso quindi è salito tanto è salito troppo rispetto agli altri con le borse americane che sono sui massimi un long io non non lo farei su questo strumento uno short ma uno short andrei a cercare quelli che sono i punti caldi e i punti caldi sono quelli che abbiamo visto in quest'area quindi uno short secondo me interessante sull'indice italiano potrebbe essere intorno ad aria 19.700 o andiamo a vederlo vi do un livello un po' più preciso uno short su questo strumento perché comunque di fatto deve 19.650 è un ottimo livello secondo me per provare a prendere delle posizioni ribassiste stop struttissimi target piuttosto ampi perché il cosiddetto respiro questo mercato lo deve prendere visto che stiamo operando contro trend perché il mercato sta salendo perché qui non c'è dubbio che il mercato stia salendo se lo fate vedere a un bambino come abbiamo detto prima il mercato sta salendo bisogna aggiornare continuamente i nostri stop in profitto per evitare che nel momento in cui il mercato dovesse riprendere a salire perdere il profitto maturato e eventualmente rischiare di prendere delle perdite però quando c'è un eccesso diciamo nei prezzi tendenzialmente io ritengo che possa essere utile valutare delle operazioni di diciamo di vendita per fare questo potete fare per vedere se c'è un eccesso potete utilizzare l'indicatore delle bande di Bollinger e mettere lo scarto a tre volte questo vi da guardate come cambiano queste sono le bande di Bollinger ok io posso mettere scarto 0.5 e vedete come cambia la banda di Bollinger posso mettere quindi andare a modificare andare a prendere le bande di Bollinger e mettere uno scarto di tre volte per vedere come cambia il mercato vedete quali sono stati gli eccessi qui siamo stati proprio veramente sugli eccessi questo non è il settaggio classico inventato da Bollinger però quello che stupisce è che comunque io pensavo che saremmo usciti insomma da dalle bande in realtà non sta succedendo quello che però stiamo vedendo è che la volatilità si sta comprimendo quindi probabilmente avremo qualche giorno di calma sull'indice italiano detto questo a livello secondo me interessante è quello che vi ho indicato precedentemente bene io spero di avervi dato un po' di informazioni spero che questo webinar vi sia piaciuto mi piacerebbe avere anche un feedback da parte vostra per farvi capire un pochettino come un trader professionista insomma si approccia al mercato con che tipo di modalità e con che tipo di approccio appunto al mercato stesso spero insomma che vi siate divertiti vi aspetto sicuramente sul sito di investire.biz dove potrete scrivere commentare gli articoli degli altri e appunto avere la vostra idea ci sono tantissime persone che scrivono questo è molto importante se siete di Roma o delle parti di Roma analisi e previsioni per il 2017 il 27 gennaio ci sarò io e ci sarà il mitico Marco Carmentano che è il ragazzo che quest'anno ha vinto tutte le gare di trading possibili e immaginabili perché ha vinto la gara europea ha vinto la gara insomma tante tante cose quindi vi esorto a partecipare visto che avrete la possibilità anche di poterci conoscere personalmente se siete nella zona di Roma del Lazio insomma è una giornata importante e si impara molto di più in un appuntamento dal vivo che in un appuntamento online ringraziamo ancora una volta investing.com che ci ha dato la possibilità appunto di fare questo questo webinar e quindi di poter condividere con voi quelle che sono le nostre strategie di trading io con questo vi saluto vi ringrazio vi do appuntamento sul nostro sito sul canale youtube al quale vi esorto ad iscrivervi e vi auguro un ottimo trading ringra